Benvenuti ragazzi in questo nuovo video, io sono Xstarter e oggi sono qui su RDR2 perché voglio mostrarvi tutti i trucchi di Red Dead Redemption 2 che si possono fare, si possono utilizzare per avere abilità, per avere insomma sbloccare o per far spunare oggetti o cavalli o insomma di tutto Inizio col dire che questi trucchi non sono tutti e quindi magari potrò aggiornarvi man mano appena usciranno tutti gli altri però in questo momento vi mostro tutti i trucchi che ci sono al momento su Red Dead Redemption 2 Beh vi devo anche avvisare che facendo questi trucchi non potrete più sbloccare i trofei insomma non riceverete nessun trofeo quando appunto completerete la missione questi diciamo questi trucchi sono per cazzeggiare onestamente quindi se io vi consiglio di farlo magari su un secondo account dove magari volete cazzeggiare Beh ragazzi detto questo direi di poter continuare ma prima ancora volevo dirvi e volevo insomma invitarvi a lasciare un bellissimo like a questo video lasciate mi raccomando tantissimi like per supportarmi e per farmi vedere che voi ci siete e che volete altri tipi di video del genere dove vi mostro altri trucchi non appena escono detto questo ragazzi commentate facendomi sapere qual è il vostro trucco preferito tra questi che vi sto mostrando oggi condividete il video sui vari social e iscrivetevi se non siete ancora iscritti faccio una precisazione ci sono trucchi e trucchi trucchi che potete sbloccare e potete inserire e prendere e fare quando cavolo vi pare piace mentre altri trucchi per poterli insomma attivare bisogna avere dei requisiti e vi spiego il tutto e non vi preoccupate non appena arrivo a quella tipologia di trucchi beh il primo trucco è quello di ripristinare la salute la stamina e il the die non sarebbe nient'altro che la barra esterna ok e non il nucleo la barra esterna quella che si scali per attivare questi trucchi naturalmente dovete semplicemente mettere pausa andare sulle impostazioni e premere il triangolo per entrare insomma nella pagina dei trucchi lì dovete premere nuovamente triangolo o insomma dipende y dalla vostra console e inserire il trucco che non varia da console e console sia per ps4 e xbox one sono uguali beh il primo trucco appunto per la stamina la salute e il the die è to flourish before you die l'ho detto proprio in un inglese fantastico ma era per cercare di rettarvelo in un certo senso e significa sparisci prima di morire il trucco sarà salvato nella lista di trucchi dovete scorrere trovarlo e attivarlo nulla di più semplice e qui appunto una volta che lo attiverete potete appunto avere stamina salute e the die al massimo un altro trucco che è fantastico a parer mio davvero molto bello peccato che appunto questi trucchi vanno a influire sui trofei però magari se siete persone che non ve ne fregate niente dei trofei potete tranquillamente utilizzarli anche sul vostro account principale beh il secondo trucco è quindi quello di poser richiamare il tuo cavallo da qualsiasi distanza cioè io potrei lasciare il mio cavallo in alto a sinistra della mappa potrei ritrovarmi in basso a destra e richiamare il cavallo e lui correrà o meglio spunerà nelle mie vicinanze e riuscirò a prendere il mio cavallo il codice è better than my dog ovvero meglio del mio cane credo che si riferisce al fatto che il cane avendo un udito fantastico appunto riesce a sentire da distanze incredibili il terzo trucco è molto molto interessante così come anche il quarto perché alla fine ora vi spiego allora il terzo trucco è semplicemente raggiungere il livello 3 del dead die insomma raggiungendo il livello 3 e aumentando dei livelli si sbloccano diciamo abilità come ad esempio quella di marcare nemici manualmente anziché farlo fare automaticamente il codice da inserire è I shall be better che significa starò meglio ma va bene quindi fatto ciò potete appunto andare sulla lista dei trucchi e correre sul trucco del dead die i vari livelli che possiamo sbloccare appunto tramite il codice perché dico i vari livelli? perché appunto il quarto codice è raggiungi il livello 5 del dead die e si sblocca con I seek and I find che significa cerco e trovo beh appunto lì si troverà sempre sulla stessa posizione nella lista dei codici e lì si può scorrere dal livello 3 al livello 5 quindi in qualsiasi momento noi potremmo impostare il dead die al livello che più ci piace e più ci interessa naturalmente a livello 5 si sbloccano cose più interessanti come appunto poter vedere visualizzare il punto debole dei nemici dei nostri nemici quindi quello è molto interessante per capire dove dobbiamo sparare effettivamente il quinto trucco fantastico questo per cazzeggiare per muoversi in maniera molto veloce è far comparire un cavallo da corsa e si attiva scrivendo semplicemente una parola ovvero run punto esclamativo spazio run punto esclamativo spazio run punto esclamativo significa corri 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 ma non c'era neanche bisogno che ve lo dicessi è bello perché si sponerà un cavallo da corsa molto molto veloce che vi permetterà di andare ovunque tranquillamente non so onestamente magari fatemelo sapere qui sotto nei commenti se il cavallo da corsa che noi prendiamo tramite il codice lo potremmo utilizzare come nostro cavallo personale sesto trucco è quello di far comparire un carro trainato da un cavallo beh non ha un'utilità in sé per sé questo trucco ma potrei trovarvela dicendovi una cosa innanzitutto il codice è keep your dreams simple ovvero mantieni i tuoi sogni semplici beh che utilità potrebbe avere utilizzare un carro appunto train out da uno o più cavalli beh nulla in realtà ma se noi spawnassimo questo carro potremmo andarlo a rivendere ai rivenditori specializzati di carri appunto quindi potremmo fare teoricamente soldi facilmente e infinitamente il settimo trucco bello per cazzeggiare è quello di diventare ubriaco istantaneamente e se ti va con a full on command che significa un pazzo a comando potremmo dare due significati a questa cosa ovvero diventare pazzi a comando oppure un pazzo a comando di una banda per esempio è da vedere ma vabbè sti cazzi beh appunto non c'è nulla da dire su questo diventate ubriachi e vedete tutto strano ed è divertente vedere il mondo di Red Dead Redemption così poi ci sono tanti altri trucchi e qui entriamo nei trucchi più difficili da fare perché appunto per svolgere questi trucchi dovete avere dei requisiti necessari e praticamente dovete comprare dei giornali giornali che si sbloccano a un certo punto delle missioni ma vi faccio un esempio velocemente allora c'è questo trucco che è praticamente per le munizioni infinite su qualsiasi vostra arma e il codice è che sarebbe l'abbondanza e il desiderio più noioso quindi magari la Rockstar qui ci ha voluto insomma sfottere sul fatto che noi chiaramente vogliamo le munizioni infinite subito cioè quasi i primi trucchi che insomma noi facciamo sui giochi Rockstar quindi la Rockstar forse ci ha voluto sfottere e per questo cattiva com'è ci ha insomma imposto di avere dei requisiti questi requisiti di che si tratta ripeto bisogna comprare dei giornali giornali che si possono acquistare dopo determinate cose dopo determinate missioni o durante determinati capitoli come per esempio per questo codice, questo trucco il giornale è New Hanover Gazette Number 27 insomma il numero 27 di questo giornale e che è acquistabile a Valentine durante il capitolo 1 io ora vi dico questi cacchio di giornali non li ho trovati perché io sono già passato avanti a queste missioni e non sono andato spesso a controllare questo diamine di giornalaio quindi io purtroppo non vi posso far vedere comunque come funzionano questi trucchi però appunto vi spiego e vi dirò gli altri trucchi l'altro trucco è sbloccare le armi pesanti non so che intenda per armi pesanti credo il cecchino e quant'altro beh il codice è GRID IS AMERICAN VIRTU ovvero la verità e la virtù americana per sbloccare questo trucco dovete avere il giornale New Hanover Gazette Number 29 disponibile dopo aver completato il capitolo 3 ed aver fatto anche la missione pubblicità la nuova arte americana quindi state attenti raga magari dopo questo video state attenti a che nome ci sono nelle missioni e così capirete quando è il momento di comprare i giornali e non so onestamente come fare per recuperarli un altro trucco è quello di rimuovere la nebbia rivelando l'intera mappa per nebbia si intende quando si va sul menu di pause sulla mappa di appunto sbloccare e vedere tutta la mappa sostanzialmente beh il codice è YOU LONG FOR SIGHT BUT SINUFF ovvero aspetti per la vista ma non vedi nulla beh il giornale che bisogna comprare in questo caso è quello disponibile dopo la missione i feudi di sangue antico e moderno nel capitolo numero 3 quindi dopo aver giocato con la missione ragazzi nel capitolo numero 3 dovete semplicemente andare dal giornalaio ora non so in che zona credo a valentine probabilmente un trucco molto interessante molto buono per diciamo avanzare nei livelli è quello di aumentare salute stamina e the die quindi aumentare proprio il livello il codice è YOU SEEK MORE THAN THE WORLD OFFERS ovvero cerchi più delle offerte del mondo nel senso che cerchi più di quello che puoi trovare comunque il giornale è quello acquistabile dopo aver completato il capitolo numero 6 il figlio del re c'è anche un trucco per sponare anche un cavallo da guerra e il codice è YOU ARE A BEST BOLD FOR WAR ovvero sei una bestia costruita per la guerra beh questo giornale è disponibile diciamo fin da subito quindi dovete comprare il giornale e i primi giornali che si trovano in giro dopo aver completato gli eventi dell'epilogo ovvero diciamo dove si sta sulla neve insomma io vi do un consiglio ogni missione che fate ogni giorno ogni quello che volete voi andate dal giornalaio e comprate tutti i giornali tanto non vi costa nulla certo dovete avere la sbattere e andare sempre dal giornalaio ma fatelo raga poi c'è il trucco per far sponare un carro del circo onestamente io sta cosa la volevo vedere però non si può il codice è WOULD YOU BE HAPPIER AS A CLOWN saresti più felice come un pagliaccio? e beh questo giornale è disponibile dopo aver completato anche questo gli eventi dell'epilogo quindi ripeto comprate tutti i giornali perché io a quanto pare questo me lo sono perso ci sono altri due trucchi e poi raga abbiamo finito per il momento perché poi vi aggiornerò in futuro quello di aumentare il tuo livello di reputazione quindi la reputazione di Arthur il codice sarebbe VIRTUE NERDED IS NOT VIRTUE oddio ho un inglese proprio pessimo vabbè che significa la virtù non guadagnata non è la virtù quindi ci sfotta anche qui la rockstar ma vabbè il giornale acquistabile è quello dopo aver completato il capitolo 04 quindi piaceri urbani dopo c'è l'ultimo trucco per il momento che diciamo si sa qualcosa ma non si sa tutto ecco il trucco in questione è quello di avere la stamina infinita e quindi poter correre infinitamente il codice è The Lucky Be Strong Evermore che significa i fortunati saranno sempre i più forti ok per quanto riguarda questo trucco anche per questo bisogna avere un giornale solo che non si sa quale giornale prendere e non si sa quando lo si deve prendere io vi do un mio parere personale ci sono trucchi molto interessanti molto belli però è un peccato che la rockstar abbia voluto mettere questi tipi di trucchi e questi tipi di limitazioni ovvero comprare per forza il giornale d'altronde però bisogna capirla perché altrimenti sarebbe stato molto semplice andare avanti con la storia perché tutti quanti si sarebbero messi i trucchi mentre in questo modo solo chi insomma va avanti nella storia se li merita sostanzialmente inoltre volevo anche dire sul fatto che è difficile attivare i trucchi c'è nel senso che questi trucchi caspita bisogna andare per forza sulla pagina dei trucchi e attivarli da lì non si poteva fare in un altro modo cioè ogni volta devo mettere pausa fare così fare con la è un po' seccante dopo un po' tipo se io ad esempio devo ripristinare la salute e stamina e dai ogni colpo che subisco ogni fine sparatoria devo per forza mettere pausa e quant'altro potevano fare dei trucchi molto veloci come soggetti a 5 che appunto erano una combinazione di tasti e bottoni da premere no ma va bene spero che il video vi sia piaciuto lasciate un bellissimo like iscrivetevi se siete ancora iscritti condividete il video ovunque per fare vedere i trucchi anche ai vostri amici quindi raga detto questo noi ci vediamo al prossimo video e raga e ciao ciao